Forse tra le cose che ho scritto per accompagnare le giornate degli studenti e di quanti prenderanno il diare della capra, che sono in questo libro, quella che fa pensare è questa. Tutta l'arte aspira a comprendere il mistero di Dio, che è il mistero stesso dell'uomo. Ecco, la nostra arte, l'arte cristiana, ci consente di rappresentare il nostro Dio perché è un uomo e parlando di lui parliamo di noi. Grazie.